più che un tetto un cappello più che un cappello un ombrello chissà magari sarà questo l'assetto della possibile ma non tanto probabile copertura del teatro d'annunzio sindaco masci si è generata anche un po di confusione perché della copertura del teatro d'annunzio si è parlato qualche anno fa era stato presentato un progetto dall'allora nuovo centrodestra oggi è rispuntata fuori lei però vuole chiarire non è quel progetto noi abbiamo proposto o meglio abbiamo cercato anche la copertura finanziaria innanzitutto per la manutenzione per la ristrutturazione per riportare a nuova vita tutta la struttura del teatro d'annunzio e poi se ci esce come dire ci facciamo anche un bel tetto che però non sia impattante c'è uno studio di fattibilità che non tiene conto di progetti passati di nessun progetto passato perché ce ne sono diversi di progetti passati sin dal 2006 2007 ma ovviamente è un'idea che verrà sviluppata tenendo conto di quella caratteristica del teatro d'annunzio di arena oggi si fanno interventi di inserimento di strutture leggere di vetro di cristallo che si aprono e si chiudono in edifici fatti mille anni fa quindi noi vogliamo ragionare su un edificio fatto nel 63 una grande opera che ha una sua caratteristica che noi vogliamo totalmente mantenere poi se ci sarà la possibilità di fare questa copertura leggera per poterla utilizzare quella struttura anche nel periodo autunnale o invernale vedremo ovviamente con il parere della soprintendenza e con il parere di tutti coloro che hanno titolo per esprimere un parere su determinati argomenti ma rappresentando una garanzia di tutela di quello che c'è per migliorarlo il progetto che noi presentammo qualche anno fa e donammo all'allora sindaco Marco Alessandrini era un progetto per noi che andava a riqualificare non solo l'intero teatro, lo andava ad ammodernare rendelo fruibile 365 giorni l'anno ma era una bozza di idea questa mattina ho parlato anche con l'ex sindaco Alessandrini a proposito di questo il quale mi ha detto che la manutenzione, la ristrutturazione ci sta tutto sulla copertura ha espresso perplessità anche perché dice a fianco c'è comunque un teatro coperto che è quello che chiamiamo panettone lo colgo al volo per dire che io ho proposto all'amministrazione comunale anche un'altra idea Pescara non ha un centro congressuale degno di questo nome quello potrebbe diventare un vero e proprio polmone culturale, congressuale tutti i centesimi spesi per il teatro Annunzio sono ben spesi perché il teatro ha un enorme bisogno di ristrutturazione e con il teatro anche la stela ha un grande bisogno di essere ristrutturata stiamo invece contrari in maniera molto netta alla copertura del teatro perché questo è un teatro all'aperto nato nel 1963 sull'iniziativa culturale di un gruppo di intellettuali italiani non solo pescaresi per celebrare il centenario della nascita di Annunzio proprio per dare alla città di Annunzio un teatro all'aperto dove poter mettere in scena anche le opere teatrali quindi diciamo che coprire un teatro che nasce all'aperto e deve restare all'aperto temiamo che possa essere una di quelle scelte fatte di fretta delle quali poi i pescaresi si potrebbero pentire il teatro al chiuso c'è, ci possono anche essere altre sale che sono già oggi utili e possono essere meglio utilizzate, c'è il teatro Michetti che ormai è in procinto di avere l'ultimo step per questa ristrutturazione il teatro all'annunzio, il teatro monumento all'annunzio deve restare un teatro all'aperto